Ciao ragazzi un grosso saluto da parte mia a Luca Di Leonardo e dallo staff di TuttoFantacalcio.it Nuovo video, nuova scheda giocatore riguardante un giocatore che è già stato in Serie A come i simi del Crotone ma prima di iniziare chiaramente a parlare di questo attaccante del Crotone vi invito ovviamente ad iscrivervi al nostro canale TuttoFantacalcio cliccate sulla campanellina per essere avvisati tramite notifica dei nostri nuovi video e chiaramente se volete farci delle domande riguardo questo giocatore o più in generale se volete farci delle domande riguardo lo studio della nuova asta 2021 chiaramente siamo a disposizione se poi volete mettere il like a questo video chiaramente vi ringraziamo di questa vostra azione iniziamo quindi a parlare di simi, attaccante del Crotone, attaccante nigeriano classe 92 è già stato in Serie A 4 anni fa, 2016-2017-2017-2018 dove in 40 presenze ha fatto 10 reti, quindi non un bottino altissimo è un giocatore che è sicuramente migliorato negli anni, quest'anno, questa stagione appena conclusa è stato il capocannoniere della Serie B con 20 gol in 35 presenze quindi sicuramente è migliorato dal punto di vista realizzativo è un giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e qual è il consiglio di TuttoFantacalcio? è sicuramente un titolare, è rigorista, ma sarà comunque titolare di una squadra che giocherà per non retrocedere è il classico profilo low cost, quindi la classica scommessa un giocatore che se volete prenderlo chiaramente non dovete pagarlo tanto perché chiaramente non si sa che tipo di propensione al bonus avrà è sicuramente un potenziale giocatore da 8-10 gol chiaramente non dovete pagarlo tanto va schierato solamente in determinate parite quindi bisognerà anche capire che tipo di attacco riuscirete a fare nella vostra rosa Simi può essere un giocatore da schierare in qualche situazione ovviamente questa è un po' l'idea che ci siamo fatti di questo giocatore avendolo già avuto anche al Fantacalcio diversi anni fa ecco quindi una breve analisi ragazzi di Simi, giocatore attaccante del Crotone vi ricordo ancora una volta qualora non l'aveste fatto di andare a vedere i nostri video che sono già caricati nel nostro canale YouTube sui nuovi acquisti di questa stagione chiaramente se ripeto avete dei dubbi se volete confrontarvi con noi e anche sapere qual è il vostro pensiero riguardo a Simi in questo giocatore del Crotone ovviamente potete iscriverci qua sotto nei commenti su YouTube e ne parleremo insieme per ora è tutto un grosso saluto da parte mia Luca Di Leonardo e dallo staff di tuttofantacalcio.it ciao ciao ragazzi ciao